oggi vorrei fare un elogio del lieto fine cos'è il lieto fine è quel meccanismo narrativo secondo il quale tutti noi sappiamo consciamente o inconsciamente che si ci raccontano una favola finirà immancabilmente con ne vissero felici e contenti quando ero bimbo la mia nonna mi raccontava le favole anche se mi portava nei brividi più atroci della paura io sapevo che in fondo a quell'orribile tunnel ci sarebbe stata la luce di quella di quella magica frase in teatro nel cinema il lieto fine è un meccanismo utilizzatissimo naturalmente in teatro soprattutto direi anzi esclusivamente nelle commedie o nelle tragico media per esempio la elena di oripide che è erroneamente considerato una tragedia finisce bene un film come che ne so giango di 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 quentin tarantino si con finisce bene a un lieto fine pazzesco paradossale sanguinolento ma è un lieto fine eccetera eccetera il lieto fine è spesso considerato da tutti un escamotage qualcosa di meccanico qualcosa di facile come dire la realtà non è questo la realtà la realtà un perenne scandalo una perenne tragedia o una perenne insensatezza nel migliore del nella migliore delle ipotesi quindi sognare che le cose finiscano bene è una sciocchezza o una pia illusione e quindi a criticare per esempio certe scelte di tutta una grande stagione del cinema hollywoodiano classico pieno di lieti fini e anche come dire a considerare i lieti fini delle commedie come qualche cosa che di fatto portavano le commedie ad essere considerate un genere minore solo la tragedia rappresenterebbe l'uomo e il senso della vita la commedia ce ne dà una rappresentazione certamente divertita ma totalmente illusoria totalmente falsificata ma io non sono assolutamente d'accordo e cerco di spiegarmi quando leggo per esempio un autore che invito tutti gli amici e quindi anche voi a leggere a rileggere il grande Charles Dickens beh tu sai leggendolo anche se ti porta nei più atroci nei più atroci cuniculi della mediocrità o della cattiveria umana anche se le disgrazie si assomano a disgrazie tu in un angolino del tuo cuore sai che qualcuno alla fine sopravviverà e questo qualche d'uno sarà il tuo eroe della speranza il tuo eroe del lieto fine e questo a me dà un grandissimo conforto da una grandissima luce anche se so che magari non è vero eh ma esiste almeno un luogo nella vita dell'uomo e questo luogo si può chiamare romanzo si può chiamare commedia si può chiamare cinema in cui il lieto fine è un paradosso possibile raggiungibile che ne so pigliamo il lieto fine più paradossale più assurdo se volete della storia del teatro del tartufo di moliere no dove tartufo vince alla fine vince questo grande impostore entrato subdolamente nella famiglia di orgone la distrugge se ne è in possessa per l'imbecillità del padrone di casa finché non c'è un intervento divino paradivino perché arriva un messo arriva un messo del re che condanna l'impostore e rigenera questa famiglia ormai destinata a cadere nell'astrico e nella desolazione è considerato un finale posticcio una giunta critici anche attendibili sostengono che il tartufo in realtà quando molere l'ha scritto si doveva concludere male con la vittoria di tartufo e basta ma non credo che sia vero moliere come dickens ci conduce al peggio o come diceva durermatt una storia un senso finché non la si sperimenta nelle sue peggiori conseguenze ci porta dentro il peggio ci porta dentro il dominio del male poi puf cude teatro riappare il senso della speranza della rigenerazione della bellezza della vita e dunque ancora una volta vissero felici e contenti a ben vedere quando leggiamo in questi giorni per tutti noi calamitosi che c'è una parola d'ordine un hashtag come si dice un meme un cartelli per la strada andrà tutto bene beh questo è è una forma di lieto fine è un trasformare in letteratura della speranza quello che invece il realismo di una storia complicata complicata e drammatica e e provo un certo fastidio quando invece sento voci legittimamente dire non andrà tutto bene sta andando male sì certo che sta andando male ma perché negarci questo sogno ecco il teatro la letteratura ma in particolare il teatro attraverso il lieto fine ha inventato questa straordinaria idea che c'è almeno un luogo al mondo dove le cose possono finire bene se finiscono bene in teatro si può immaginare e sognare che finiscano bene anche nella vita e quando riapriranno riapriremo finalmente i teatri e allora potremmo dire di nuovo o sperare di poter dire quella magica frase e vissero tutti felici e contenti ciao a tutti